Le radici etnè richiamano e la loro eco non può certo rimanere isolata. Così Giuseppe Lavegna, noto reporter originario di Adrano, partito dalle emittenti locali fino ad approdare in Rai per il Tg3 Liguria e per la vita indiretta, è tornato alle pendici del vulcano, in particolare a Belpasso, dove all'interno del circolo Operai di Via Roma ha incontrato colleghi e cittadini per raccontare il ruolo del cronista e quanto sia stato determinante in questi anni, segnati dal Covid-19, passando dalla guerra in Ucraina fino all'arresto del boss Matteo Messina Denaro e ai drammatici femminicidi come quello di Giulia Cecchettin. Fatti di cronaca, tutti raccontati sul campo da Lavegna che a Belpasso ha ribadito il ruolo importante del cronista in un mondo invaso dai social e dall'intelligenza artificiale. Io credo che sia più importante oggi che in passato, la vulgata al comune, adesso il giornalista non serve più a nulla, tanto ci sono i social, tutti abbiamo il telefonino, documentiamo e insomma la verità la possiamo raccontare. Abbiamo scoperto proprio con la pandemia che non è esattamente così, il giornalista è colui che racconta la realtà e che per dovere deve dire la verità. L'influencer fa un altro lavoro, chi utilizza i social per riprendere fa un altro tipo di lavoro, non è obbligato a dire la verità. In alcune circostanze il giornalista è terzo rispetto alla notizia, a volte si tende invece a diventare componente della notizia. Giuseppe Alavenia è sulla notizia ma non altera, non influisce sulla notizia, lo fa con grande equilibrio, con grande professionalità e credo che sarà una lezione di giornalismo e di informazione utile per tutti, non soltanto per chi è del settore. L'evento, promosso dalla testata Free Press Online, è stato moderato dai giornalisti Daniele Loporto e Chiara Lucia Germenà. Durante l'incontro, Agata Longo ha letto la poesia scritta da Maria Rosa Vitaliti, presidente Archeoclub Belpasso, intitolata Covid-19 anno 2020, contenuta nella raccolta Anime Inquiete. Aspettiamo che queste manifestazioni vengano più spesso per fare conoscere le nostre realtà all'interno della nostra provincia.